A sovi, a muoio, io so, io so cosa è successo Jack, il potere dell'amore mi è stato rivelato, c'è un mondo che brucia, ma voi volete fermare la guerra e venite a chiedere a me, ma se volando verso il sole vi si bruciano le dalle, la scelta è stata vostra, Seidi, stavolta ma squarto, Seidi, 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 La mia nome è Linda, un nome solo una volta sarei lì per averla, Linda, se Linda dice quelle cose di me, è perché in me vede suo padre, che odia la mia, E per fin me qui, vi andiamo strisciando in casa, e voi, io conosco quelli come te, non sei niente di speciale, But then again, too few to mention L'accusa ha presentato un enorme mole di prove, molte delle quali di carattere scientifico, delle quali è possibile osservare senza ombra di dubbio che gli imputati sono colpevoli degli omicidi. Quelle erano gente, quelle erano persone, come le... In questo momento Charlie ci sta guardando, in questo momento Charlie ci sta guardando, E può sentire tutto quello che diciamo, e può sentire tutto quello che diciamo, Se potessi di spacchiare la testa adesso, perché è quello che meriti Vince! Ma non lo fate. Siano probabili seguaci in abbondanza di un autoprogrammato puro, eh? Lo sai chi è mio padre? Lo sai chi mi ha creato? Lo sai chi ha creato? Charles Manson è il vostro sistema! Mio padre è il carcere! Io sono quello che voi avete fatto di me! Io ero un involucro vuoto prima che mi riempiste! Di vasto patria! Non l'ho scritta io quella musica! Non l'ho scritta io quella musica! Significa soltanto confuso! Uno di loro protesta Vex mi spara! Non arriva a rispettare i suoi ultimi! Sì! Venti! 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 I secchioli piantati nelle mani e nei piedi E la spada conficcata nel fianco Leggitti marito Tranne noi e gli schiavi negri Jump down, turn around, peaky bell of cotton Jump down, turn around, peaky bell of it Peek-a-peek-a-peek-a-peek-a-peek-a bell of cotton Peek-a-peek-a-peek-a-peek-a-peek-a bell of it Grazie per la visione